Ciao a tutti, sono Jacopo di Cortocircuito Savigliano Film Festival di Shortcuts Magazine e vi do il benvenuto a questa nuova video recensione che realizziamo come sempre in collaborazione con la biblioteca civica Luigi Baccolo di Savigliano, dove, vi ricordo, è possibile trovare tutti i film di cui vi parliamo in queste nostre video recensioni da prendere in prestito gratuitamente in DVD. Allora, oggi ho deciso di parlarvi di un calta assoluto del cinema italiano, uno dei film più celebri della storia della nostra cinematografia nazionale, che è Il Sorpasso di Dino Risi, un film del 1962 e vado a illustrarvi brevemente la trama. Il film è del 1962 e si ambienta proprio in quell'anno, per essere precisi, il giorno di ferragosto del 1962. Siamo a Roma, una Roma assolata, deserta, proprio perché appunto tutti sono via per il giorno di ferragosto, e Bruno Cortona, interpretato da Vittorio Gasman, si tratta di un quarantenne piuttosto esuberante che ama le macchine veloci, le belle donne. Ecco, Bruno Cortona gira per Roma con la sua lancia e sta cercando appunto una... deve fare una telefonata e sostanzialmente viene accolto a casa di un quieto studente di giurisprudenza, Roberto Mariani, interpretato da Jean-Louis Trantignan. E allora, dopo aver fatto la sua telefonata a casa di Roberto, Bruno sostanzialmente convince lo studente a fargli compagnia per la giornata, ecco. E quindi i due saltano sulla macchina di Bruno Cortona e partono per un lungo viaggio in macchina, tutto guidato dall'euforia di Bruno che trascina Roberto in questa avventura sostanzialmente. E Roberto da un lato detesta lo stile di vita trasgressivo, un po' da marpione di Bruno, e dall'altro ne è anche profondamente attratto, proprio perché al contrario lui è molto timido, è molto morigerato, diciamo. E quindi questa è sostanzialmente la trama del film e poi si arriverà ad un finale assolutamente sorprendente e indimenticabile, ecco. Allora, il sorpasso è indubbiamente uno dei capolavori della commedia all'italiana. Perché un grande capolavoro della commedia all'italiana? Proprio perché, come è caratteristica di questo genere, è un film in cui si ride, si sorride, certo, ma in realtà è anche un film molto duro, per non dire spietato quasi, nel rappresentare i costumi della società italiana dei primi anni 60 e nel muovere una critica molto feroce nei confronti di quella società edonistica, ormai concentrata solo sulla soluzione dei propri piaceri, un po' sull'onda del boom economico, appunto, in cui l'Italia si trovava all'inizio degli anni 60. E quindi, appunto, come le grandi commedia all'italiana, è un film in cui, sì, si ride, ma dall'altra si riflette e c'è sempre, come dire, una componente dolce amara, ecco, anzi, forse piuttosto amara in questo tipo di commedia, ecco. Anche perché, appunto, il film ovviamente ha una struttura, perlomeno dal punto di vista dei personaggi, dicotomica, nel senso che abbiamo il personaggio, da un lato il personaggio di Bruno, che, teoricamente, è un personaggio negativo, diciamo, proprio perché rappresenta questo modello di italiano, sì, simpatico, ma fondamentalmente che vive di espedienti, anche un po' truffaldino, ecco, un vero e proprio marpione, un furbastro, ecco. E dall'altra, invece, abbiamo il personaggio timido, buono, gentile di Roberto, che è veramente un personaggio, dall'altra, di grande onestà e di grande rettitudine, ecco. Ma lo spettatore empatizza molto di più, entra in empatia molto di più con il personaggio di Bruno, appunto, che non con il buon Roberto, che in realtà non suscita particolare simpatia da parte dello spettatore, anzi, suscita quasi sensazioni di pietà, ecco, nei confronti di questo ometto, che è preoccupato, pensa solo a studiare e così via. Però in realtà, appunto, proprio questo, in realtà è il racconto, è un film che racconta l'Italia, racconta un paese intero, in chiave assolutamente dolce e amara, con un finale decisamente amaro e davvero sorprendente, perché è completamente alieno ai toni dell'intera pellicola. Una pellicola che, per quanto appunto, con questa componente di critica sociale molto forte, per il resto è assolutamente solare, apparentemente. E quindi questo finale, così diverso, così inaspettato, anche rispetto al resto della pellicola, risulta assolutamente geniale e dirompente. Una vera e propria stilettata che rivela tutte le intenzioni di critica socioculturale del film. E ovviamente Vittorio Gasman e Jean-Louis Trantignan sono due interpreti meravigliosi, protagonisti di scene cult, che veramente fanno parte dell'immaginario collettivo del nostro cinema nazionale. E soprattutto, questo film è anche una grande occasione, soprattutto, devo dire, per degli spettatori giovani, per immergersi veramente nelle atmosfere, nei suoni, nelle musiche, nel cibo, ecco, di quest'Italia, dei primi anni 60, siamo nel pieno appunto del miracolo economico, quindi feste, musiche, danze, gite al mare, trattorie. Insomma, è un film veramente incredibile che costruisce questa atmosfera straordinaria e che da un lato racconta appunto questa Italia completamente edonista e dall'altra, in qualche modo, ne predice già il fallimento tragico. E quindi Il Sorpasso è veramente un capolavoro assoluto, forse il film più celebre, per certi versi anche forse il film più grandioso di Dino Risi, è uno dei più grandi esempi di commedia all'italiana, con dei grandissimi attori. Ed è veramente un film che consiglio a tutti, anche perché è veramente una visione appassionante, divertente, ma allo stesso tempo che rivela anche quanto le nostre commedie sapessero in realtà essere amare e profondamente realistiche nel loro racconto. Quindi io vi auguro buona visione e ci vediamo alla prossima videorecensione.